Tampone accelera, blocco di Tote, Moretti si butta dentro al tiro, il canestro, il fallo, grande giocata molto volitiva di Moretti che mette il tredicesimo punto per Trieste, rivediamo il replay, Davide Moretti parte in accelerazione, fallo su di lui di Bossi, tiro libero aggiuntivo di Davide Moretti che entra, 14 punti per il figlio di Paolo, ultimi 48 secondi. Fa vedere, riceve Moretti alto, porta blocco Kravic, Moretti accelera, fallo su di lui, tiro canestro e fallo, Moretti 16, avrà il tiro libero aggiuntivo. Rivediamo l'accelerazione, sfrutta blocco di Kravic, mette la quarta Moretti, va col corpo a spingere Ruzier su Moretti, vedete che però ha la forza d'animo.